SABATO 8 LUGNIO Biancolatte Anche l'erbetta inizia a dare sui primi frutti Questi tiri veramente belli Qualità eccezionale SABATO 8 LUGNIO lo scomodo arrivo aspettami uno e uno che fanno due ragazzi ragazzi tenetevi forte qua è arrivata la bomba vediamo che condizioni penso che sia anche sano una bella sberla inizia anche a piovere si vuole si vuole guardate che bellezza guardate che bellezza guardate che funghi che spettacolo madre natura e le sue bellezze questo è uno scherzo della natura sopra la ciocca anche bello ma questa erbetta capotato la forza della natura guardate che funghi guardate che funghi che meraviglia che meraviglia spettacolo ora sistemiamo meraviglioso è stato super mangiato ok ragazzi ce l'ho giunto a fine giro io e la mia zanetta vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti